Christian Dior manca un pezzo vero? si manca il tacco in poche ore la cliente stava camminando per le strade di Milano e inciampata gli si è insaccato il tacco all'interno di una grata PAM è partito il tacco tra un po' gli partiva pure la caviglia adesso andremo a cambiare il tacco e a rimettere la mezzosuola che anche qui la gomma si è completamente sfaldata e quindi la andiamo a riparare ho smontato il tacco vecchio ed ho rimesso un tacco nuovo adesso lo vado a fissare tacco cambiato abbiamo rimesso il tacchettino sotto e poi in più abbiamo cambiato anche la mezzasuola lucidato pronto per essere indossato di nuovo